I laureati dell'Università dell'Insubria trovano più velocemente un lavoro rispetto alla media nazionale. Emerge dal ventitresimo rapporto Alma Laurea, annuale fotografia su profilo e condizione occupazionale dei laureati, che ha coinvolto 76 Atenei italiani e che è stato presentato a Bergamo dalla direttrice del Consorzio, Marina Timotio, con un saluto del Ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. Anche nel lungo periodo dell'emergenza sanitaria i dati sull'occupazione dell'Ateneo di Como e Varese dell'Insubria restano positivi. A un anno dal conseguimento del titolo, oltre il 75% dei laureati triennali non iscritti a un corso di secondo livello ha un lavoro e anche per i dottori magistrali il tasso di occupazione è del 77,5% a un anno dalla laurea e del 93,75% a 5 anni. Sono diversi gli aspetti analizzati dal rapporto che ha preso in considerazione 2.046 laureati dell'Insubria. Anche le retribuzioni si distinguono nel panorama italiano. Gli studenti usciti da un corso triennale a un anno dal titolo guadagnano in media 1.352 euro mensili invece di 1.270, che diventano 1.770 invece di 1.364 per i magistrali. La quota di laureati di cittadinanza estere è pari al 4,3% mentre il 5,4% proviene da fuori regione. L'età media ha la laurea di 25 anni, un dato su cui incide il ritardo nell'escrizione al percorso universitario. Il 64,5% dei laureati termina l'università in corso e il voto medio è 101 su 110. Oltre il 10% ha confiuto un'esperienza di studio all'estero riconosciuta dall'Ateneo e oltre il 70% ha svolto un'attività lavorativa durante gli studi. I nostri laureati sono stati premiati sul mercato del lavoro, commenta il rettore Angelo Tagliabue, merito anche del supporto ricevuto dall'Ateneo che non ha mai interrotto, seppur a distanza, il dialogo che caratterizza il nostro modo di intendere l'insegnamento. Grazie a tutti.